Si è svolta sotto i migliori ospici la regata del 28esimo trofeo ammiraglio Varanini frutto di una pluriennale collaborazione fra la Lega Navale Italiana, sezione di Portoferraio e il circolo nautico di Magazzini. Soddisfatto il giudice Alessandro Altini e anche gli organizzatori della regata alla quale partecipano sempre piccoli velisti fra gli 8 e i 15 anni. Un vento di 5 e 6 nodi di scirocco ha consentito di realizzare la prima prova ma successivamente i salti di vento hanno reso impossibile lo svolgimento della seconda. Il trofeo ammiraglio Alberto Varanini è una coppa che viene assegnata al primo arrivato della classe Optimist cadetto e quest'anno è stato vinto dal Leone Gori del centro velico elbano di Riomarina. Allora abbiamo avuto una quarantina di imbarcazioni di cui 14 Optimist quindi quelle dei bambini più giovani e circa 26 di classe differenti fra Laser, fra Equip, fra Taz e altre classi che hanno partecipato in un'unica gara tutti insieme mentre gli Optimist hanno fatto una gara separatamente. Come tutti gli anni alla fine del periodo estivo la Liga Navale Italiana della sezione di Portoferraio in collaborazione con il circolo di Magazzini organizza questo evento che ormai ha un soverscuso storico che va avanti negli anni. Il prossimo appuntamento fondamentale sarà il trofeo Vespucci a Riomarina che si svolgerà il 6 di settembre se non erro e mi premeva moltissimo più che altro sottolineare l'aspetto ludico della manifestazione di oggi. C'è stata una massiccia presenza di genitori che si sono trovati benissimo oggi sia in mare che a terra a supportare i ragazzi che sono qua principalmente non per una gara ma per stare insieme e stare insieme in mare approfittando di una giornata splendida come quella di oggi e di uno sport splendido come quello della vela. Buon vento a tutti!